Un medico a tiro! Abbiamo preso l'obiettivo! Si può avere un passaggio amico? Vedo uno dei loro soldati! Vedo il mio! Vedo uno dei loro soldati! We are losing Objective Apples. Tutti i loro soldati, è là! Vedo un assaltatore nemico! Un assaltatore nemico! Ne ho trovato uno! Sì, abbiamo preso l'objetivo! Sì, abbiamo preso l'objetivo! Siamo perduti l'objetivo Charlie! Occhio, ragazzi! Vediamoci, ragazzi! Questo obiettivo è nostro! Abbiamo preso l'obiettivo, Edward. Sì! Abbiamo preso l'obiettivo! Laggiù! Quello è un trucco! Ho individuato un soldato nemico! Un soldato nemico! Abbiamo preso l'obiettivo, Edward. Un soldato nemico! Un soldato nemico! Un soldato nemico! Oh, fuck! Un soldato nemico! Vedete quell'obiettivo? Contestatelo! Visto? Un assaltatore! Ora abbiamo il controllo di quello che... Siamo nei guai! Il obiettivo è perso! Ditevi qua il vantaggio! We have taken objective Charlie. Ottimo lavoro! L'obiettivo è nostro! Ricognitore delito! L'obiettivo è stato fatto! Grazie. No, 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 no! No, 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 no! 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 No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no Vedo un ricognitore nemico. Return to the combat area. Un ricognitore, visto? Soldati! Ehi! Laci un medico nemico! No! Un00! 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 Mi servono proiettili! Qualcuno ci dia un po' di munizioni! Là! C'è un ricognitore! Abbiamo finito le munizioni! Abbiamo finito le munizioni! No! 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 Grazie!